Insegno come si beve l'acqua, visto che devo insegnarvi tutto, proprio tutto, tutto. Se prende un bicchiere d'acqua, così avvicina all'apparato la bocca. Si fa così, guarda. Aspetta. Un sorso alla volta. Non chiudi un sorso. Questa persona è seduta, non al tavolo di fianco al mio, ma c'era un tavolo che ci separava. Questa persona è seduta di là. Ha la faccia tosta di dire, ehi, ehi, giovanotto, scusami. Ora che la mia, cos'è che ha detto? La mia libertà arriva fino a dove arriva la tua. Ma che cazzo stai dicendo con queste frasi da filosofo? Stupido biccio che non sei altro. Perché?